Londra, 1939. Er Wolf è un investigatore privato, tedesco. Viene soldato per ritrovare una ragazza scomparsa, la ragazza ebrea. Wolf accetta il caso perché ha un bisogno disperato di soldi, ma Wolf odia gli ebrei. È colpa degli ebrei, infatti, se nel 1933 ha dovuto lasciare la Germania. È colpa degli ebrei se i comunisti hanno preso il potere a Berlino e da qui in quasi tutta l'Europa. È colpa degli ebrei se il partito nazista, che avrebbe dato ordine e disciplina all'Europa, è stato sconfitto e distrutto. È colpa degli ebrei se Wolf e molti dei suoi vecchi compagni sono finiti così, dispersi e braccati. Questa è parte della quarta di copertina di Wolf, appunto, romanzo ucranico di Laviti Dar. Laviti Dar, oltre a essere un notevole autore di fantascienza, è anche specializzato in fantascienza ucranica ed è uno scrittore israeliano di religione ebraica, il che già rappresenta una singola dirittà se pensiamo che stiamo parlando, in questo caso quantomeno, di un romanzo basato sul filone dell'ucronia fantanazista. Tuttavia, il punto di partenza del romanzo è molto differente dai soliti elementi delle storie di fantanazismo. Qui non abbiamo a che fare con una Germania nazista vincitrice della seconda guerra mondiale. Al contrario, il nazismo è stato sciolto appunto nel 33 perché è il comunismo ad aver preso il potere in Germania dopo la Repubblica di Weimar. Col sostegno dell'Unione Sovietica il comunismo si sta espandendo anche nella Mitteleuropa, in quasi tutta l'Europa e la Germania rappresenta il braccio politico, il braccio armato di questa ideologia che quindi nel mondo ucronico del romanzo di Tidar rappresenta la minaccia che sostituisce quello che è stato il nazismo nella nostra timeline, nella timeline vera che conosciamo insomma. Quindi è un punto di vista anomalo e interessante. Inoltre Tidar prende la figura di Hitler, una figura assolutamente negativa di Hitler e non c'è bisogno che ve lo dica io, e la trasforma nel protagonista del libro. Protagonista del libro che non è più un leader politico, non è più un pittore, ovviamente, è un esiliato, un esiliato con una certa fama, ma comunque in disgrazia, che ha messo la sua intelligenza, diciamo così, la sua astuzia al servizio di un lavoro, dell'unico lavoro che si è riuscito a inventare, quello dell'investigatore privato. Investigatore privato che gli consente più o meno, diciamo, visto che non naviga nell'oro, di sopravvivere di campare. In questa indagine però, quella di cui parla il romanzo, si troverà a riallacciare i fili col passato, a scoprire la fine che hanno fatto alcuni suoi vecchi compagni di partito, quelli che per noi, che conosciamo come gerarchi nazisti, invece qui hanno avuto vita breve come il partito stesso, e a riallacciare i fili del passato sempre con quello che era la sua ideologia, il nazismo, che qui è tramontata ed è morta molto prima che potesse fare danni e molto prima che potesse prendere il potere. Quindi abbiamo un'ucronia molto particolare, un Hitler molto particolare, già è coraggioso il fatto di averlo reso protagonista del libro, e devo dire che è un protagonista che funziona, non è un protagonista positivo. La cosa positiva di questo Hitler è la sua perseveranza e la sua astuzia. Tuttavia viene descritto appunto come un antisemita, perché è rimasto antisemita anche da esiliato, e viene descritto come una persona con grosse turbe sessuali, di masochismo soprattutto, che vengono descritte in più di una situazione in cui Wolf barra Hitler si trova, viene a trovarsi appunto. La storia è avvincente, oscura, ben scritta, chi da scrive molto bene, tra l'altro disseminata di riferimenti alla cultura pop e pulp degli anni 30, scusate, da Metropolis a Tolkien, fino alla reinterpretazione di Leni Riefenstahl, che conoscete come appunto nella nostra timeline, nella vera timeline, come essere la regista di Hitler, è stata chiamata, la regista di tutte le sue manifestazioni, le manifestazioni del partito nazista, da Nuremberg all'Olimpiadi, insomma. Qui ha un altro ruolo, si è riciclata come regista ad Hollywood dopo il crollo della Germania post-imperiale, post-Weimar, insomma. Il libro è molto bello, ripeto, sicuramente è uno dei libri, dei romanzi di Coranici più particolari e interessanti, non lascia indifferente ed è bello anche perché è moderno, è stato scritto in questi ultimi anni e quindi ha cercato, riuscendo, di liberarsi da quegli elementi che sembrano avere un po' schiacciato il genere del fantanazismo, ovvero proponevano sempre la Germania vincitrice o le forze dell'asse vincitrici del conflitto che invece hanno perso, come per fortuna è successo. Bello consiglio, in Italia è stato pubblicato da Frassinelli, vi metto il link in descrizione, in didescalia, vi consiglio assolutamente di leggerlo, appunto è molto diverso dai libri per esempio La Svastica sul Sole o Fatherland, di cui abbiamo parlato in altri video di questa rubrica cronica ed è assolutamente unico finora nel suo genere. Se eccettuiamo forse un libro considerato da alcuni maledetto, tanto che è stato bandito in diversi paesi europei per molti anni, soprattutto in Germania, parla del Signore della Svastica di Norman Spinrad, che invece in Italia è stato ripubblicato per Urania nel 2017 e che immagina un Hitler, anche qui protagonista a suo modo, diciamo, protagonista metanarrativo del romanzo in quanto in questo romanzo Hitler è scappato negli Stati Uniti nel 1919 dopo l'ascesa del comunismo in Germania e in Europa, quindi appunto che lo collega o lo ricollega al libro di Tidar e negli Stati Uniti è diventato un illustratore di Weird Tales, di Amazing Stories anzi. E da qui è diventato a sua volta scrittore, scrittore di fantascienza, autore di una serie di romanzi come La razza dei padroni, L'impero dei mille anni e soprattutto Il Signore della Svastica che in questa fantasia narrativa di Spinrad diventa il vincitore del premio Hugo 1954, solo che si tratta di un romanzo di fantascienza antisemita, razzista, che viene ampiamente descritto che è il cuore della trama del libro Il Signore della Svastica che vi metto altrettanto in didascalia. Ritengo molto più interessante il libro di Tidar, tuttavia anche Il Signore della Svastica, se amate Lucronia, è molto particolare e vi consiglio di dargli quantomeno una chance. E anche questa volta è tutto, passeremo oltre questo genere di Lucronia nelle prossime puntate e spazieremo in altre epoche storiche. Alla prossima!